Il calendario è fitto, cosa avete in programma? L'amministrazione ha deciso anche quest'anno, quindi rinnova l'impegno che si era già preso l'anno scorso nei confronti dei nostri cittadini, dei turisti che vengono a trovarci, della Prolocco, dei commercianti e della consulta dei giovani che ci hanno chiesto comunque di riuscire a organizzare un qualcosa. L'organizzare un qualcosa vuol dire per noi mettere a disposizione delle risorse, quindi il Comune ha ritagliato a bilancio un importo che varia intorno ai 35 mila euro, in modo che i cittadini lo sappiano, affinché si potesse illuminare, rendere più viva, creare eventi e manifestazioni per la città. Quindi si parte già da questa sera perché gli eventi non sono solo a livello di piazza o di manifestazioni, ma si parte già stasera in Basilica con la presentazione di un libro. Si prosegue poi a partire nelle giornate di domani con altre iniziative, con clown, con varie situazioni. Devo dire che quello che sembra che ha attratto di più la voglia di essere ripresentato a Clusone era la frequenza del trenino. Quindi a partire dal 27, 28, 29 e 30 di dicembre ci sarà nuovamente questo trenino che gira per le piazze e per le vie di Clusone. Se mi è possibile aggiungere un appunto, ho incontrato i commercianti, la Proloco e anche la consulta dei giovani, perché questo deve essere un lavoro di squadra. Se si vuole fare squadra però ci si dimentica un po' delle polemiche perché altrimenti poi non ne usciamo più. Allora noi mettiamo a disposizione le risorse, siamo anche quelli che tirano un po' il filo di questi eventi, ci deve essere sempre maggiore collaborazione. E' l'invito che faccia la maggior collaborazione da parte dei commercianti. A loro veramente credo che sia piaciuto questo programma che abbiamo fatto, anzi la risposta è stata sicuramente positiva. Anche loro creeranno degli angioletti che verranno esposti per le vie del paese, quindi a breve vedremo anche addobbato le vie del paese da parte dei commercianti. Quindi se tutti assieme ci stiamo, Clusone c'ha tanto da offrire, c'ha tanto da fare. Io continuo a crederci, la mia amministrazione anche, continuiamo su questa iniziativa, con loro abbiamo deciso di proporre maggiormente gli eventi dopo il Natale. Perché? Perché effettivamente la nostra città potrebbe ricevere un sacco di turisti e quindi volevamo farci vedere un po' chi ci conosce, chi qui ci vive, sa quanto siamo bravi, quanto siamo belli e quanto siamo importanti. L'importante è farci conoscere anche chi arriva dopo le festività natalizie. Sappiamo che dal 27 sicuramente i turisti salgono in Alta Valle Seriana, i milanesi possiamo chiamarli così, e quindi si è preferito andare maggiormente a mettere gli eventi nel periodo dal 27 al giorno della Befana.